Chi è loggiorno di farci l'acqua di questo? E' un caso che siete stati stati, non ho visto come state, non ho visto, non ho visto, non ho visto che è ancora la parte della vita che vi è una domenica che si chiama, non ho visto che è stato un'altra parte, non ho visto un carattere, non ho visto una domanda, non ho visto che non ho visto, perché è stato un'altra parte, Io penso che ci sono due questioni di carattere istituzionale, prima di venire la nostra vita. Noi siamo calpessato le istituzioni, abbiamo calpessato la politica, la politica, la politica, la politica, la politica. Stiamo permettendo che in un concilio comunale, a quale ho chiesto la propria via, di bandisciare con questa identità. Io penso che in un concilio comunale, che ha fatto da soltanto bene, e c'è stato questo concilio comunale, chi, e questo per una pura disattenzione della politica, ha permesso che quello con una rispettiva, ma io lo so, in un'altra consigliare, che ripeto, vi vede il carattere istituzionale, o vedendo, o vedendo, la politica, voi tutti i consiglieri comunali, consiglieri provinciali e consiglieri regionali, nel gioco di essere in unità nazionale, di cui in questo momento mi raccontro. Io gli ho fatto un applauso. All'inizio non mi lanciano a dire, io sono in effetto, sono in effetto, perché io non ho bisogno di convocazione. Quella è la procedura di partecipazione. Poi l'ho capito, perché l'ho arrivato prima. L'ho capito, mi dispiace, gli altri papà, mi dispiace. Ma questa, questa questione che ho trovato in modo molto forte, e allora, scusate, io pure, io sono abituato ad essere un anno, e l'ho facciato, per questo punto di sé, se ho usato una tappa, io ho andato a dormire con gli amici e gli amici. Io vi dico che ho avuto delle cose, delle cose di difficoltà, perché usano una mobilità nazionale, e non un altro papà, usano una mobilità nazionale e usano a prendere una piccola fede in due settori alla data, durante la votazione della Fruccia, l'unica persona che riuscita a dire, a voce sottessa, che il Gaglietti diritto non sia degna. Non c'è stato un giusto direttato, uno, di cittadini o di cittadini, che ha sottotitato una questione nazionale, che non è stata una vala più eccellente, che non è stato un giusto direttato, io vi dico che i sindacati, i nostri lavoratori della fede, che lo sanno, che lo sanno bene, che non hanno un'azio del Gagliettino, è tutta di solo una questione politica, è una questione politica, dove da politica ha partito, abbiamo sottotitati, abbiamo deputati nazionali, abbiamo sottotitati. Signor, la scelta di ossi, come ha ripetitato, in una vita più complicata, voluto dalla vita, e da, lo dico, il Vagone, dal Gritto, il Vagone e del Chattolino, a fede degli spazi cittadini. Voluto con solo che vi ha sentire questa battaglia, qualcuno che vi ha sentito, tanto il governo che si hanno uscito a fare, come si sono stati, come si sono stati, come si sono stati, come si sono stati, e quindi, come si sono stati, non ha tanto nessuno, noi facciamo politica in quelli che i nostri piccoli comuni, scompiantatori, casuali, ci sono unitario perché sono l'anno qua, ma scusatevi, ma di volta che te ne chiamo che qualche uomo ha posto a campo di una zitta, non facciamo perché, per governare questa zitta, per farlo a scontrare non ci si è accattato a piano, non è che ci sono un'altra parte, un'altra parte, e quando è praticamente una tante, un'unica tante, a campo di una tante, noi stiamo aspettando, se ci vengono adesso, che già si vissero, l'unico, l'unico, normalo del cittadino di Italia. Allora la proposta di questo cittadino, caro Presidente, tu sei bravo, sei giovane, il dolore di l'unica? Perché non abbiamo fatto nulla? Perché quella persona non lo vissero? O non abbiamo fatto nulla perché le cose da dietro non lo vissero, La nostra politica va bene come c'è, ma per noi, uomini di vita di noi, per noi militanti, lasciandoci un po' di centrosinistra. Allora, inizio, parlare di tanto, ci sono lezioni di centrosinistra e nessuno si accorta che non ci vuole davvero. Allora, se a dirci la politica, allora cominciamo dai nostri conti. Ma anche noi siamo risposti da una nuova politica, non è una soltà dentro una politica del fondo che passa qui, tra lo suo come non è voluto andare, ma se ce ne va male, non 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 ce ne va male. Allora, a fare un numero di figli dei tatti, da portare a volerle a dire, non ci troviamo le mezze del mattino. Quanti di noi ci avrebbero deciso di questo momento? Quanti di noi ci avrebbero deciso di da qui, a un paese del mattino, a un paese del mattino, a un paese del mattino, dai nostri frattini, dove hanno pensato che non ce ne va male, non ce ne va male, non ce ne va male. Non ce ne va male, 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 non ce ne va male. Qui è una persona che mi va bene, già non ce ne va bene, è cinso sinistra, perché il frattato non può diventare qualcuno di dire, io e domani prenderemo il primo ministro, un deputato della Repubblica che mi colleta qualcuno, che si trattette dalla posta di un ministro, quando saluto nel sud e lo capire, non è solo quella che si ha dato al prossimo e all'altro, ma anche quella di un pazzo che ci ha detto pure. aveva detto il quale, aveva 15 minuti che ci ha dato la vostra città, perché il frattato non sono 15 minuti, il popolo non aveva saputo della vita. E i bisogni stavano così. Io ho sentito che non c'era il frattato che stava, io, 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 io faccio questo, io e te faccio questo. E voi non abbiamo il risotto del primo mattarietto. Quante le battaglie si affettano da sole, le battaglie si perdono. E allora noi prendiamo il coraggio, amici, e con questo concludo. Siamo tutti, e ritorno. Siamo tutte persone che ci rendono la braccia e che raccontano il consenso. Dobbiamoci, dobbiamo far vedere e dire che non è solo con la legge dell'Economia, che ha già una porcata, ma è con la legge dell'Economia, ma è con la legge dell'Economia, ancora di più, la secezione dell'Economia, che non è statistica, ma è totale missione della volontà economica e sociale del centro, e in questo modo, su tutte le persone del centro e di questo modo. E abbiamo una strada vita e su questo ci stanno a misurare, non ci sono un'aula di un'economia, ma che si dà la saggialità del confezio della città. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.